La vita è bellissima, tutto ciò che succede per una razza. Juno è un mese speciale per noi, apparentemente. Sembra che ne abbiamo capito, esattamente un anno fa, eravamo in una situazione molto simile. Eravamo tornati da El Nido, pronti per iniziare la nostra vita in nostra nuova casa. Allora in quel momento eravamo capiti di tutti i problemi che eravamo affrontati, ma determinati, abbiamo iniziato la nostra nuova vita con la positività e abbiamo visto che la vita era di offrire. Questo anno sono qui solo, pulire la piazza del deck come un anno precedente. Credo nel destino e il destino vuole replicare un scenario simile. Voglio credere che questo è il passaggio giusto. Non possiamo cambiare la nostra destina, solo bisogna seguire e accettare con piacere cosa la vita ciò che ci ha dato. Sono qui pulire la piazza con molta piacere e speranza in un futuro bello. futuro, per me, Mami Tere e Baby Bella. L'universo ci ha sempre avuto ciò che vogliamo. Momenti come questo possono solo lasciare mi capire quanto la vita è bella. Non so se ci sono ucchi, non lo posso vedere. Buon giorno a tutti, benvenuti al nostro canale. Un giorno bello lunedì qui in Puerto Princesa Palawan. Mirko è qui e Mami e Baby Bella sono proprio qui, da la camera CCTV. Buon giorno! Ciao ciao Bella! Ciao Bella! Come sei? Sono solo comunicando con la CCTV. È un giorno bello lunedì qui in Puerto Princesa Palawan. Mami e Bella sono in Makati. Sono qui per rispondere i problemi dell'uomo. Se non avete visto il nostro video precedente, il cilindro si è morto e ci sono amici che bisogna contare. Quindi stiamo chiamando le persone, stiamo chiedendo gli ingegneri licenziati sull'uomo, per lasciarli controllare e assicurare che la propria è sicura, che sia ok per vivere. Ma se vuoi più informazioni, guardate i video di avanti. Avanti ho riposato tutto il terreno, ho cortato il grasso e credo che ho fatto un ottimo lavoro, ma non è ancora finito. Quindi oggi vi faccio vedere per il terreno, vi mostrerò tutte le flore, perché ci sono davvero molti bellissimi. La propria è davvero piena di flore. Il sentimento di essere in contatto con la natura è davvero incredibile. Uppare con questa vista è davvero davvero bellissima. Sono solo triste che Mami e Bella non sono qui con me. Ma ci saranno comunque la prossima volta, per sicuro. Ho spero. Perché abbiamo bisogno di finire prima tutte queste cose. E in between, non sarò molto lungo qui. Ci sarò solo un paio di giorni, spero. Allora, cominciamo a cutere le lettere oggi. Abbiamo molti di lettere a cutere. In realtà, ho sentito, Bella stava parlando a me, a me, a me, a me. Bella. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. È così bello. Ok, while they're there in Makati, staying at home and resting, I will try to fix here. Bye, bye. Bye, bye. Hello. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. He's so adorable. Ok, let's start. I forgot about it, how hot could be while working, but I love the feeling, I'm really enjoying to be back in the gardening. It was more than a month now. I need to cut more bamboo. Actually, here, are all the bamboo that I cut already. And I didn't show you, but yesterday, I got burned. Thing I knew, I have the sign of the t-shirt because the sun is really, really strong and I forgot that I really get burned easily. Anyway, let's continue. I need to stay with the long sleeve because if not, I will get more burned. I still have much to do. but before to continue this video, today, we want to share a new way to send money to the Philippines. SendWave will allow you to send money with no fees, zero. Send money with SendWave is secure, quick, and affordable. You can transfer money to Gcash, Cash Pickup, or the major bank in the Philippines. All you have to do is to download the app SendWave now, create an account and click in this icon and you can get 500 pesos or 10 dollars credit free using our code MITEBEL and then you need to enter your recipient name, Vergy Cash, bank account or Cash Pickup, the amount you want to send and your debit card info. There is no minimum amount that need to be sent. You can send as little as 1 dollar per transaction free free. This is amazing! Don't forget today to get your 500 credit using our code MITEBEL Try now, SendWave! Tingan Gnotto guys, I'm so excited. There is a nest. I don't know if there are eggs. Let's see. So cool! Actually this is one of the reasons why we wanted some bamboos in the property because the birds make nest and this means that if there are a lot of nests there are also a lot of birds around and it's so nice because you will hear the chirping of the birds during morning, at night. So cool! I'm so happy! I need to be careful but there are also some there and I will cut it and I just reviewed the video there are two eggs. This is so cool! I'm so so happy for this, my God! I hope that other birds will create more nests. Now we need to be careful here, Baka, there are nests and I will destroy and it would be cyan here. Somewhere here on top. So cool this. Okay, break time, lunch time actually and we need to get food also for our guests that we check the house for the engineer and the architect. Okay, let's take food now. Okay, here we go. Our panseed malabo this time, I think, are my favorite. I miss it so much. Normally when we are here in Puerto we are taking this. So now we need to eat the engineer, the architect and we will eat also. I need to close the gate. Okay, let's open this and let's see I'm sobrangutom. It's already kind of late. I will show you this really delicious panseed. Very good. panseed malabo 250 included the delivery. Let's open it. This is so, so good. Look at there. inside here there are eggs, some vegetable, shrimps and octopus thing I know. There is even a small octopus here. I miss it so much. I'm really happy to be able to eat it. Let's do it. It's actually a sort of Filipino spaghetti. Something I know. Mmm. so good. Here we go. Pizza for tonight. Thank you so much. Rose, I'm with Sean Connery of the Philippines, of Palawan. I'm here with Rose and Matthew. Thank you so much. We are having dinner. Let's eat. This pizza is really, really, really mazerap. Roma pizzeria. If you are here in Puerto Princesa, pass and eat from them. Really good. That's good, my girl. And you. Welcome. Bella. Bella.